Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Ciao a tutti! Buongiorno! Buongiorno! Allora, scusatemi per il mio raffreddore, ma questa mattina mi sono svegliata con questo fedele compagno e quindi avrò una voce un po' così. Allora, e oggi andremo avanti con l'argomento che abbiamo iniziato a trattare la scorsa settimana dei come guadagnare con un bed and breakfast e oggi parleremo nello specifico della gestione dei bed and breakfast in forma imprenditoriale. Allora, iniziamo subito con la condivisione dello schermo. Allora, facciamo un breve ripasso di quello che è stato fatto la scorsa volta. quindi l'origine abbiamo visto che è partito con un'usanza familiare al tempo degli anni venti in Irlanda, quando le case venivano, si liberavano diciamo di alcune camere perché i figli magari partivano per lavoro, fino a poi andare ad evolversi fino ai giorni nostri. Allora, siamo partiti proprio da un'ospitalità di base spartana fino ad evolversi con le varie campagne di marketing. Al tempo, per sapere come e quale case davano l'opportunità di avere queste stanze in affitto, veniva esposto il cartello all'esterno stesso della camera, ora invece esistono dei motori di ricerca ben precisi che ci permettono di andare a selezionare e a trovare direttamente i bed and breakfast nello specifico, oltre ad altri motori di ricerca che assieme ad alberghi danno visibilità appunto anche ai bed and breakfast. Ci si diceva che chi va a pernottare in un bed and breakfast generalmente è uno spirito di avventura, cerca delle emozioni o vuole scoprire i luoghi. Questo perché grazie al rapporto intimo che si viene a formare, a creare tra il cliente e il gestore del bed and breakfast. E quali sono i punti di forza? Partiamo da questa slide qui che abbiamo visto meglio l'altra volta. Abbiamo visto che ci deve essere un alloggio specifico fatto in una determinata maniera, deve dare a rispettare tutte le norme edilizia, le norme igieniche, la colazione è meglio, è preferibile fornire una colazione casalinga piuttosto che dei prodotti confezionati. Poi ci sono dei servizi comuni che secondo me devono essere dati appunto come il wifi ed il parcheggio e poi abbiamo questa parte in blu, come vedete i servizi extra, le sale relax, le piscine, magari delle convenzioni all'entrata ai musei oppure addirittura un centro olistico. Ecco, questi sono i servizi che fanno la differenza. Allora, quando l'altra volta, non so se vi ricordate, avevamo visto un video di presentazione di un bed and breakfast casalingo, ok? Quindi le persone che effettivamente un'altra famiglia accoglie, apre le porte di casa sua ed accoglie un'altra famiglia e sì, magari il sito è fatto bene perché comunque il tecnico che l'ha creato è stato molto bravo, la camera carina, addobbata, però è chiaro ed è paese insomma che si tratta di un bed and breakfast saltuario, quindi che non viene gestito in forma amministrativa con la partita IVA, ma viene gestito con la famosa ricevuta di prestazione occasionale sulla quale deve essere apposta la marca da bollo di 2 euro per i valori superiori a 77 euro, un po' diciamo le regole dell'amministrazione. Con questa formula qui, noi cosa possiamo andare a fare se gestiamo un bed and breakfast appunto in forma così, casalinga? Possiamo andare magari a metterci su Booking, possiamo andare a metterci su Airbnb, su Expedia, possiamo andare a inserirci proprio su quei motori che sono specifici per la scelta e la ricerca dei bed and breakfast come può essere bed and breakfast.com, insomma ci ne sono vari ed alcuni. Però se invece noi decidiamo che dall'analisi che abbiamo fatto vogliamo proporre ai nostri clienti qualche cosa in più e realizzare attraverso la creazione del bed and breakfast proprio la nostra attività imprenditoriale, cioè farlo veramente come lavoro, a quel punto dobbiamo investire. Dobbiamo investire molto su quello che sono le materie che verranno utilizzate, su quello che sarà la pubblicità e sui punti di forza. Ecco che a questo punto quello che in questo schema risulta una parte marginale dovrà essere quantomeno in un bed and breakfast gestito in attività imprenditoriale sviluppato e potenziato affinché la percentuale vada a colpire diciamo così il blu e il giallo, ok? Cioè dobbiamo proprio dare qualità al servizio che noi andiamo ad offrire. Io vi ho messo qui delle fotografie di un bed and breakfast come potete vedere l'altra volta vi ho detto che ci siamo evoluti dall'idea originale di un bed and breakfast fino ad avere strutture che effettivamente possono andare ed essere concorrenti anche di alberghi. Questo perché, cioè voi immaginate di entrare qui, questo è un boutique bed and breakfast, cosa vuol dire un bed and breakfast di elevato qualità, di charm perché lo vediamo da noi, no? Guardate queste fotografie, subito vi arriva l'impatto che non si tratta di una cosa gestita così alla buona ed in maniera casalinga perché è tutto estremamente perfetto. Già il fatto del fare una foto di questo tipo sono foto professionali, vuol dire che si è deciso di investire e di andare a pagare un fotografo affinché venga a farci delle foto di un certo tipo. Quindi prima di tutto quando noi decidiamo di andare a gestire un bed and breakfast in forma imprenditoriale dobbiamo assolutamente tener conto che una parte del budget di destinazione dovremo metterlo nella campagna di comunicazione e marketing e oltre a questo dovrà essere utilizzato materiali di qualità e di design, dare un arredamento di prestigio, la location, anche questo è importante perché in questo particolare caso di questa fotografia che stiamo vedendo se io vi faccio vedere le foto successive vediamo, no qua non c'è allora dopo le vediamo direttamente dal sito comunque questo è un bed and breakfast che si trova a Venezia io ad esempio questo non lo conoscevo poi facendo delle varie ricerche sono capitata e ho deciso di presentarvelo proprio perché secondo me va a rappresentare e a chiarire perfettamente l'idea di come deve essere un bed and breakfast in attività imprenditoriale allora un'altra cosa se voi vedete la scelta del target della clientela anche qui è molto importante proprio perché va a scusami vedevo in chat quanti B&B gestisci? no io ne gestisco uno poi sono io gestisco uno in forma scusami in forma familiare cioè è molto saltuario diciamo che la camera viene occupata nei periodi di chiusura della scuola ecco quindi parliamo di quattro mesi all'anno poi sono consulente di viaggio e quindi vado un po' a selezionare varie strutture ma per metterle nel mio database da proporre poi ai clienti non mi occupo della gestione a 360 gradi sono stata promoter del marchio perché io diciamo noi ci siamo specializzati in un determinato marchio ma quello poi magari vediamo in un'altra volta ecco quindi sono promotrice turistica ecco non vado a gestire proprio nello specifico la catena di B&B spero di aver risposto alla tua ah no no non sono un'investitrice immobiliare no Giuseppe mi dispiace no 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 ok allora chiusa questa parentesi andiamo avanti con la presentazione scusate ok allora quando si parla di location guardate guardate un attimo questa questa fotografia cioè io non so dove ci si trova non so il nome della casa però so che si tratta e riesco a capirlo guardando la foto si tratta di una struttura posta all'interno di una dimora d'epoca o di una casa con un particolare valore e pregio da cos'è che lo capisco? beh dalle statue di marmo che si trovano in giardino insomma perché non penso che nelle case comuni si vada a trovare delle statue di marmo insomma e quindi già questa immagine io vedo un tavolo di questo tipo preparato in una determinata maniera con i fiorellini con e capisco immediatamente che questa è una struttura di charme allora un bed and breakfast di questo livello è gestito per forza di cose in attività imprenditoriale non è un gestito un ma si ha affitto la camera che mi avanza una volta ogni tanto ok andiamo a vedere un attimino per quanto riguarda l'esempio della tariffa e delle condizioni ecco io ho fatto un copia e incolla ad esempio di quello che ho trovato sul sito del bed and breakfast delle fotografie che abbiamo visto prima e andiamo un pochettino a capire di che cosa si tratta e come andare a leggere allora la nostra migliore offerta include il nostro prezioso servizio di portineria personale ecco questo non l'ho scritto io e ho fatto il copia e incolla di quello che c'era nel loro sito quando io cliente vado a leggere una cosa di questo tipo mi salta immediatamente all'occhio che cosa che loro vogliono farmi capire che hanno un servizio di portineria personale quindi o c'è un consure o una persona comunque di riferimento il cui magari io ho il numero di telefono o e quella posso mettermi d'accordo dire guardi arrivo per le ore tal dei tali e lui sarà lì ad accogliermi ok e e quindi anche quando noi andiamo a creare le nostre tariffe dovremo andare a evidenziare proprio come fanno loro i punti di forza e questo sicuramente è un servizio questo fa parte dei servizi extra dei quali vi parlavo prima poi vabbè l'internet wifi e quello ci sta e una deliziosa colazione vedete proprio quando mi prima parlavo della comunicazione di quanto sia importante utilizzare le una descrizione giusta ecco le parole usare le parole soprattutto quando si va a scrivere un'offerta è importante perché se noi telefoniamo a voce ovviamente ci si capisce meglio se però io vado a leggere posso interpretare in una maniera piuttosto che in un'altra ecco quindi loro mi dicono guarda la nostra colazione è deliziosa poi ovviamente sarà giudizio soggettivo delle determinate persone che andranno lì confermare o meno questa cosa e magari appunto informandosi prima su dove sui vari siti di recensioni come può essere TripAdvisor o Booking o quant'altro ecco allora io apro una parentesi sul discorso recensioni generalmente ci sono tre possibilità diciamo così di avere delle recensioni la prima è la recensione su Google la seconda su TripAdvisor la terza può essere sul motore di ricerca su quale noi ci poniamo quindi potrebbe essere Expedia Booking Go Airbnb ecco una struttura di questo tipo noi probabilmente non la troviamo su Airbnb ok troveremo delle strutture e lo andremo a vedere nella seconda parte di questa di questa live capiremo effettivamente la differenza fra un Bed & Breakfast gestito in forma imprenditoriale al quale si vuole dare veramente uno slancio ed un target ben preciso rispetto ad uno che viene gestito in forma un po' più bonaria allora qui noi abbiamo suite sul canale grande beh non so prima se vi avevo nominato la città però quando si legge questo insomma si capisce dove ci si trova ci si trova a Venezia e voi vedete il prezzo varia da 285 a 475 euro a notte e questo è il prezzo della suite poi sotto ci dice che abbiamo un'altra possibilità di camere l'incantevole camera matrimoniale da 180 a 285 euro a notte allora come facciamo a capire qual è il prezzo che noi andremo a pagare del nostro soggiorno ecco probabilmente nel sito dell'albergo ci sarà un format da compilare dove andremo ad inserire la data di entrata ed uscita e lì ci verrà data in automatico la disponibilità della camera ed il prezzo relativo un'altra un'altra invece cosa che potrebbe essere è quella di non mettere direttamente il calendario di prenotazione sul sito ma semplicemente di mettere un format di richiesta e poi sarà direttamente l'hotel che ricevuta la mail del format di richiesta verrete contattati e vi diranno guardi noi abbiamo la disponibilità per la camera la suite piuttosto che la matrimoniale e questo è il prezzo questo perché allora ci sono due possibilità di scelta per decidere se si vuole mettere il calendario online sul proprio sito o meno allora la prima potrebbe essere quella di cioè io metto il calendario online sul sito faccio gestire tutto da un portale e fa tutto lui e io non devo pensare ad inviare la mail della preventivo una cosa e l'altra ecco questo però è molto importante e quasi sicuramente chi gestisce un bed and breakfast in forma imprenditoriale ce l'ha questa gestione invece potrebbe non averla chi gestisce un bed and breakfast in forma così casalingo questo perché perché sono costi e quindi se io vado ad affittare il bed and breakfast quattro mesi all'anno cioè non è detto che io abbia i soldi o anche la voglia di andare a fare un investimento di questo tipo mentre se io lo faccio come attività imprenditoriale che ha intenzione di andare a affittare l'appartamento o la camera tutti i giorni dell'anno con determinati requisiti di qualità come abbiamo visto in precedenza quindi l'arredamento i materiali di qualità la location prestigiosa sia location intesa come edificio che come luogo come città dove ci si trova è l'incantevole scusatemi e la e queste sono delle dei requisiti che per forza di cose io dovrò andare a gestire con una determinata persona che magari stia alla reception che mi segua la campagna di marketing che mi segua la sincronizzazione dei calendari dei vari motori di ricerca ecco questo può essere un altro punto perché se noi ci mettiamo su booking su airbnb su tripadvisor però poi magari riceviamo la prenotazione da una parte e contestualmente si va a prendere dall'altra cosa succede? succede che si va in overbooking overbooking vuol dire che noi riceviamo più prenotazioni della disponibilità reale di cui ne possiamo dare ecco e quindi il fatto di avere un programma un sistema informatico che in automatico nel momento in cui io ricevo una prenotazione da un determinato sito immediatamente va a sincronizzare tutti i calendari di tutti gli altri siti di tutti gli altri portali nel quale io sono ecco e quindi questo è sostanzialmente la prima cosa il primo diciamo lato vantaggioso dell'inserire il calendario di prenotazione direttamente sul sito ovviamente questa scelta ribadisco deve essere spalleggiata dalla scelta di avere un investimento e un sistema informatico che va a gestire il tutto ecco questi sistemi informatici non sono neanche particolarmente allora non sono né troppo costosi né troppo economici dipende insomma ce ne sono un po' di vari tipi ecco quindi la la addirittura ad esempio o trip advisor piuttosto che bookie piuttosto che o anche addirittura bnb e così quando noi andiamo ad inserire la la nostra disponibilità mi dice guarda vuoi andare a collegarti a fare la sincronizzazione dei calendari e dice sì ecco che quindi ci sarà tutto un procedimento un passaggio da fare e con questo diciamo può essere una soluzione per andare a risolvere questo problema di avere un gestionale perché gli stessi siti ci danno l'opportunità di di gestire loro questo passaggio ecco quindi è bene quando si decide di fare un di mettere online un calendario di valutare appunto di fare il discorso della sincronizzazione per evitare cosa che magari arriva la la prenotazione da parte del cliente da booking però non sono arrivata ad andare ad aggiornare su Airbnb e magari Airbnb mi fa la prenotazione e adesso cosa faccio non ho la camera insomma ecco quindi mi raccomando fate sempre molta gestione nella prenotazione questo ribadisco nel momento in cui viene fatto così alla buona insomma c'è bisogno di un po' di organizzazione però ce la si può fare se noi invece andiamo a valutare il servizio di prenotazione del del breakfast di cui stiamo parlando in questo momento insomma siamo ad un livello talmente alto che non ci saranno assolutamente problemi di questo tipo perché fare un diciamo così un po' un pasticcio nelle prenotazioni può andare sicuramente a rimetterci nella nostra immagine ecco che ribadisco quando noi decidiamo di fare un bed and breakfast imprenditoriale dobbiamo assolutamente prendere determinate decisioni ed essere sempre ad un livello alto ecco quindi questo è un po' la condizione iniziale per cui decidere e capire come lo gestisco lo gestisco così provo ad iniziare un po' così o provo ad iniziare o vado direttamente con con l'imprenditorialità ecco e andiamo avanti poi per quanto riguarda l'ora sotto si richiede un soggiorno minimo di due notti ecco allora anche qua le tariffe dei bed and breakfast ma anche degli alberghi in realtà mi dicono esattamente quante notti noi dobbiamo per notare cioè loro mi dicono io per una notte la camera non la do ti richiedo un minimo di due notti ecco questo la durata minima del soggiorno è indipendente dalla forma che si vuole tenere sia che sia in forma familiare sia che sia in forma imprenditoriale non cambia niente è solamente una scelta personale che uno decide di applicare questo perché si richiede il minimo di due notti allora quando noi presentiamo la camera ad un ospite la camera ovviamente va pulita va igienizzata va cioè deve essere veramente perfetta no e deve essere perfetta la camera sia per una persona che si fermi una notte sia che ne si fermi due notti tre notti una settimana quindi cioè capite anche voi che pulire la camera e fare tutto un lavoro che c'è dietro di igienizzazione sanificazione soprattutto in tempi di covid e quant'altro per una notte è più il costo dell'operazione di manutenzione e gestione della camera che il guadagno e quindi molti dicono no io guardi richiedo almeno due notti insomma tanto da di dire ok con una notte mi vado più o meno a coprire le spese sicuramente della sanificazione e tutto quello che ne compete e con la seconda notte inizio ad avere il mio guadagno ecco oltre al fatto che la gestione di camere che vengono affittate sempre per una notte e via è veramente impegnativa perché c'è poi una mole di di lenzuola di asciugamani cioè di biancheria da lavare di pulizie da fare cioè veramente sia lì dalla mattina alla sera che non fai altro insomma che pulire questa questa camera ecco e allora anche qua se noi abbiamo un bed and breakfast in forma imprenditoriale e abbiamo quattro camere possiamo anche decidere che una camera la dedichiamo agli ospiti di passaggio quindi la camera magari quella un po' più economica può essere magari venduta appunto ad una tariffa più a volte quando si fa una sola una sola notte le tariffe non sono economiche ma magari hanno quel supplemento in più questo perché perché come vi dicevo il gestore deve comunque rientrare delle spese di pulizia e sanificazione e quindi ti dice ok va bene per una notte però diciamo se tu mi fai due notti ti posso applicare uno sconto invece se tu mi fai una notte sola ti applico un supplemento ecco questa è un po' la logica del perché viene fatto questo ragionamento insomma poi un oltre qua andiamo avanti ti dice durante l'alta stagione è richiesto un soggiorno di minimo tre notti e infatti allora perché durante la bassa stagione gli dico va bene guarda mi va bene anche due notti però nell'alta stagione siccome parliamo di strutture di bed and breakfast dove comunque non ci sono venti camere ma ce ne sono magari tre quattro due capite anche voi che se stiamo nella notte di capodanno e mi dicono ah io vorrei la camera solamente per la notte del 31 e poi magari l'uno vorrei stare a dormire fino a mezzogiorno e poi andare io come gestore ti dico guarda per la notte di capodanno insomma chiediamo tre notti o quantomeno due notti la notte del 31 e la notte dell'uno ecco però sostanzialmente nei periodi di alta stagione è molto frequente la richiesta delle tre notti tre notti addirittura negli alberghi si parla anche di sette di cinque insomma dipende un po' dai vari periodi ecco poi qua mi dice andiamo avanti l'ospite aggiuntivo più 25 euro a notte su richiesta allora andiamo un attimo nella slide successiva dove viene specificato che le tariffe qua delle camere si intendono per occupazione doppia a notte ogni persona in più è di 25 euro non tutte le camere possono ospitare letti aggiuntivi inviateci una richiesta che cosa vuol dire questo vuol dire che il prezzo che noi vediamo poniamo ad esempio che la nostra camera venga a costare 285 euro per la notte noi sappiamo che quei 285 euro sono incluse due persone se per caso siamo una famiglia e viaggiamo con dei figli nostro figlio pagherà 25 euro a notte quindi avremo una tariffa di 285 più 25 e loro appunto nella specifica della pagina successiva mi dicono che non tutte le camere hanno la possibilità di avere il terzo letto e che quindi va richiesto ecco appunto anche qui insomma bisogna fare sempre molta attenzione quando noi andiamo a compilare la richiesta di prenotazione perché potrebbe essere che ci venga data la prenotazione per la la camera generalmente i prezzi vengono corretti però potrebbe essere quello che ci dica anche guardate il prezzo è 285 euro il letto aggiuntivo da pagare in loco al momento dell'arrivo perché magari noi decidiamo di pagare subito con la carta di credito ecco quindi fate sempre molta bene attenzione alla descrizione del prezzo di cosa vado a includere qua sotto ti dice che vengono accolti gli ospiti dalle 9 alle 21 quindi l'orario questo perché perché se è pur vero che stiamo parlando di un bed and breakfast di qualità comunque sia dove c'è l'accesso di servizi di servizi di portineria personale non stiamo parlando di un albergo dove magari c'è la reception che lavora H24 abbiamo degli orari che sicuramente è una fascia molto ampia e che copre bene o male un po' diciamo tutta la giornata loro ti dicono noi siccome siamo ripeto un bed and breakfast di qualità e quindi come si diceva prima è stata la prima cosa che hanno indicato che hanno il servizio di portineria personale sotto riprendono questo argomento e ti dicono che possiamo accogliere arrivi tardivi dopo le 21 ed è previsto un supplemento di 30 euro cosa vuol dire che io dovrò assolutamente accordarmi con il cliente per capire con lui un orario indicativo o dare un mio numero di riferimento affinché il cliente possa chiamarmi ed avvisarmi nel caso in cui dovesse arrivare più tardi perché magari hai avuto un imprevisto o c'era del traffico ecco questo servizio io te lo offro però ovviamente è un servizio che esula da quello che è la tariffa standard e quindi ha un suo prezzo che in questo caso è di 30 euro allora i termini e le condizioni non so se qualcuno mi aveva già seguito per quanto riguarda il mondo dei viaggi però la normativa italiana prevede che noi dobbiamo dare molto in chiaro nello specifico quali siano i termini e le condizioni delle tariffe che vengono proposte ecco che di seguito quindi c'è tutta la descrizione che cosa mi comprende la tariffa che abbiamo visto prima la colazione l'iva e la tassa di soggiorno invece è esclusa in tutte le tariffe che noi vediamo online la tassa di soggiorno è sempre una tassa un prezzo che viene pagato a parte e dovrà essere pagato in loco questo perché la tassa di soggiorno è una tassa comunale che noi come ricettori sia che l'ospitalità viene svolta in ambito imprenditoriale che non questa tassa di soggiorno è sempre dovuta è il comune che fissa l'importo e ogni quattro mesi attraverso il portale deve essere effettuata la dichiarazione ed il successivo pagamento ovviamente se il cliente mi prenota e ad acquista una tariffa magari non rimborsabile però poi per n motivi non si presenta ovviamente questo costo della tassa di soggiorno non viene applicato al cliente perché il cliente fisicamente non si è trovato in quel luogo in quel determinato giorno ed orario ecco quindi il motivo del per cui non è mai inclusa nel prezzo ma è sempre pagata a parte nel momento in cui il cliente si presenta mettiamo caso che il cliente decide di stare una settimana però per qualsiasi motivo poi anticipa la sua partenza la tassa di soggiorno corrisponderà ai giorni effettivamente utilizzati e pernottati poi vabbè andiamo avanti la connessione internet wifi è gratuita anche qui non è scontato adesso molti hanno cioè offrono questo servizio a livello gratuito però se pensiamo di trovarci in un posto ad esempio come a Cuba dove il wifi la linea internet sulle isole è molto difficoltoso questo collegamento ed oltre ad essere difficoltoso vuol dire che è anche costoso ecco che quindi generalmente ti dicono io ti do il wifi qui nella sala colazioni però la linea wifi non arriva nella tua camera perché adesso per un bed and break questa è difficile perché parliamo di una struttura ampia però se invece parliamo di un di un albergo allora capite bene che magari la reception è qui e la vostra camera si trova a 200 metri più in là e può essere che voi dite ok io voglio avere il wifi anche in camera però dobbiate pagare un supplemento ecco perché viene sempre specificato che la connessione internet è gratuita oppure a pagamento le prenotazioni sotto c'è scritto si effettuano con una carta di credito valida ecco un'altra cosa che ci fa capire che la gestione del bed and breakfast è in forma imprenditoriale è proprio questa frase qui è molto difficile per non dire raro che le bed and breakfast che sono gestiti in forma familiare generalmente non hanno il lettore della carta di credito non hanno il lettore bancomat perché pensate anche voi tutte le spese di gestione che questo comporta se uno deve affittare la propria camera quattro mesi all'anno cioè non gli conviene darà l'opportunità al proprio cliente di pagare in contanti oppure attraverso il bonifico ecco questo si può fare tranquillamente però la gestione di una carta di credito ecco è è è abbastanza impegnativa allora se noi effettuiamo delle prenotazioni attraverso i portali loro si faranno carico di prendere la la vostra carta di credito a garanzia della prenotazione per assicurarla poi cosa succede che ne so il booking di turno farà la fattura al cliente quindi al gestore del bed and breakfast e si farà carico lui di ricevere booking il pagamento che poi andrà a girare al gestore al netto ovviamente della commissione e questo ne parleremo poi in sede in un'altra giornata per non fare troppa confusione sotto mi viene detto che non prendono un deposito il pagamento finale viene riscosso durante il soggiorno ok a cima rosa ecco vabbè questo è il nome del bed and breakfast con questo vogliono comunicarvi che non avrete nessun tipo di pagamento anticipato le policy di cancellazione vedete una cancellazione con meno di sette giorni di preavviso mancata prenotazione verrà debitato l'intero importo ecco loro vi dicono che tu puoi cancellare fino a sette giorni a livello gratuito e non devi pagare un anticipo se però cancelli oltre questa tal data ti verrà debitato in questo caso l'intero importo c'è chi invece decide di applicare una sola notte due notti questo un po' dipende dalle varie strutture e questa è una cosa che si può fare solamente nel caso in cui io prendo una carta di credito a garanzia quindi se io gesto un bed and breakfast in forma familiare che gestisco direttamente le prenotazioni senza appoggiarmi ad un'ota ad un portale esterno cioè non posso andare a dire al cliente o ti chiedo una caparra e poi quella ne parliamo oppure altrimenti non posso chiederti nulla poi va bene andiamo avanti qua a vedere ok la gestione del sito della pubblicità allora adesso andremo a visitare un attimino assieme questo sito però deve essere assolutamente un sito completo e curato come vi dicevo sempre aggiornato dovrete inserirvi i motori di ricerca adeguati e dovranno essere utilizzate delle parole chiave la comunicazione dovrà essere ottima e professionale io questo bed and breakfast non lo conoscevo ad esempio sono andata a indicare su google i bed and breakfast più belli bed and breakfast di qualità bed and breakfast di charm e è comparso questo allora non so se avete mai potuto seguire delle live di formazione appunto magari che propone anche Fabrizio sui blog sulla gestione dei siti la comunicazione e quant'altro però le parole chiavi sono molto molto importanti allora sono vengono anche praticamente descritte come delle parole con un linguaggio seo cioè la frase della parola chiave dovrà essere ripetuta più volte all'interno magari del vostro del vostro sito questo per far sì che chiunque si trovi su google che è un grande mare pieno di pesci però noi vogliamo pescare il tonno e io cerco di buttare la l'esca adatta a pescare il tonno quindi le parole chiavi funzionano un po' così cioè funziona da esca per andare a recuperare quello che mi serve legato a quella parola ecco che questo deve essere molto importante sia che decidiate indipendentemente di farlo in forma familiare o imprenditoriale imprenditoriale deve essere fatto assolutamente ma secondo me anche in forma familiare se ci si vuole far trovare quando andrete a creare il vostro blog o il vostro sito usate tantissimo le parole chiave perché queste sono quelle che vi permettono di farvi trovare allora andiamo avanti qui ah ecco un'altra cosa prima di andare a vedere il sito è quello una volta che voi avete pensato al vostro bed and breakfast e prima di iniziare a vendere effettivamente fate un test quindi vivete voi da turisti la vostra struttura invitate anche i vostri amici e confrontatevi con i competitors cioè io ho idea di andare a creare un bed and breakfast però voglio farlo magari creare qualcosa di nuovo che non ci sia cosa vado a fare prima di tutto vado a cercare le strutture faccio una ricerca online e vedo che cosa c'è nel mondo di di quel determinato settore di quel determinato target che io vorrei andare a coprire andare a soddisfare se vedo che c'è magari qualche cosa di interessante posso anche decidere di andare io stesso a fare una una notte due notte spesso per capire la qualità e come gestita una struttura va benissimo una notte quindi posso andare a a prenotare anche la notte se mi viene data la possibilità ovviamente altrimenti faccio le due notti ed andrò a vedere e a carpire un po' diciamo i segreti noi in questi incontri andremo spesso a vedere siti di vari bed and breakfast premetto che io non voglio fare pubblicità a nessuno perché non mi interessa e quindi quello che vi faccio vedere è semplicemente una selezione di quelle che secondo me sono le strutture che corrispondono meglio ed andare ad analizzare assieme a voi che cosa che può essere utilizzato allora ad esempio usciamo da qui ok allora questo è il sito del bed and breakfast che abbiamo visto prima qua voi vedete il nome ecco un'altra cosa che appare subito all'occhio qual è è questa è tutto scritto in inglese quando noi abbiamo e vogliamo andare a creare un bed and breakfast di questo tipo di questo livello dobbiamo rivolgerci non in italiano ma proprio in inglese perché la nostra idea è quella di rivolgersi al mercato estero tanto poi gli italiani comunque vengono però voi pensate che uno straniero non si mette a tradurre la lingua italiana è brutto da dire ma è così cioè loro sono abbastanza comodi di conseguenza se trovano un sito poi in inglese appunto a seconda del livello elevato che vogliono loro ed è una pretesa anche che hanno da parte loro del mercato straniero nei confronti delle strutture italiane quindi il nostro blog il nostro sito dovrebbe essere quantomeno strutturato bilingue è vero che poi dopo c'è google che dà la traduzione automatica però il traduttore automatico non è che funziona proprio così tanto bene quindi se ne abbiamo l'opportunità sarebbe il caso di andare a crearlo proprio in due o addirittura tra lingue insomma ecco dipende un po' dove ci si trova allora qui vedete accommodation e vedete qui qua c'è la cima rosa al B&B oppure gli appartamenti è molto frequente che i bed and breakfast soprattutto quelli che vengono sono gestiti in maniera imprenditoriale e quindi hanno disponibilità di più spazi vengono diano la possibilità di avere sia la formula appartamento che la formula camere questo è sostanzialmente perché perché un bed and breakfast in realtà deve dare la colazione e il pernottamento se però vogliamo rivolgerci ad un mercato più ampio come quello che potrebbe essere le famiglie o semplicemente cercare di ampliare e di poter le nostre potenzialità di vendita è bene anche dare un appartamento qual è la differenza che da una parte ci si può far da mangiare dell'altro no ecco e quindi anche magari in questo periodo ad esempio dove per assurdo alcune persone possono andare al ristorante ed altre no ecco l'avere un bed and breakfast che offre le camere ed un appartamento sicuramente mi può avvantaggiare rispetto al mio competitor che ha solamente le camere perché io potrò andare a rivolgermi a tutti a 360 gradi a tutti alle persone che vogliono l'appartamento per scelta per necessità e però anche quelli che gli va benissimo avere semplicemente la camera e la colazione senza il servizio della cucina ecco questo è una può essere una scelta e un consiglio che io voglio darvi insomma un po' a tutti a tutti voi ora vedete proprio anche la linearità ed il design del sito stesso ecco un'altra cosa ecco qui molto importante voi lo capite perché perché in tutte le aziende la normativa mi dice che se io sono un'azienda devo pubblicare la mia partita IVA deve essere online allora vedete qui c'è scritto partita IVA il numero l'indirizzo la posizione di maps i recapiti telefonici e delle mail ecco quindi quando noi andiamo a visitare un sito e vediamo che nel sito non compare la partita IVA molto probabilmente quel bed and breakfast la partita IVA non ce l'ha ok perché se ce l'avesse sarebbe obbligato a pubblicarla questo anche è un segnale chiaro di come può essere gestita e più che gestito in realtà individuato quando io vado a cercare una struttura e mi interessa sapere se quella struttura è gestita con una partita IVA o meno vado a vedere nel sito se non la trovo nel sito vuol dire che non ce l'ha ecco poi per carità può essere che uno abbia il sito e si sia dimenticato di inserirlo di aggiornarlo perché magari ha iniziato semplicemente con un'ospitalità familiare poi le cose si sono volute nel tempo e non gli è venuto in mente di andare ad aggiungerla sul sito ecco ci può stare però sono delle eccezioni non è una regola ok allora questo penso che sia chiaro ed evidente a tutti l'elevato qualità del bed and breakfast andiamo ad esempio a vedere in questo qua invece ci troviamo giusto per darvi l'idea ed il confronto di quello che è un bed and breakfast gestito in forma imprenditoriale quello che abbiamo visto prima ed in forma normale quello che vediamo adesso cioè come potete vedere qua dalle foto la struttura è molto carina particolare in stile ecco però cioè si capisce ed è palese che stiamo parlando di una struttura che molto probabilmente la partita IVA non ce l'ha ok molto probabilmente per quale motivo perché in realtà se questa struttura ha un sito come vi dicevo posso andare a verificare nel sito se c'è la partita IVA sì oppure no ma anche perché quali sono un attimino i requisiti fiscali ed amministrativi allora partiamo dal presupposto che noi dobbiamo mi vedete troppo scura aspetta perché forse la luce aspetta perché io ho la la condivisione dello scherbo quindi non riesco mi vedete meglio adesso mi pare di sì 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 adesso va bene adesso va bene no adesso di nuovo scura adesso di nuovo scura è perché se con la luce è contro luce quindi se la videocamera rileva la luce in un modo adesso si sta ecco così così aspetta sì così va abbastanza bene va abbastanza bene ok perfetto ecco quello che vi dicevo ci sono dei principi fiscali da dover comunque sia rispettare cosa vuol dire che nel momento in cui io vado a parto diciamo con una gestione familiare perché la mia idea è di partire con una gestione familiare però poi le cose vanno talmente bene che io mi trovo a gestire anche questa struttura che è bellissima per carità molto carina molto bella ad avere pernottamenti frequenti perché per fortuna la mia struttura piace si vende bene ed ecco che non sarà più quei 3-4 mesi all'anno ma inizierà ad essere anche magari 10 mesi all'anno a quel punto io sono obbligato a gestire la mia struttura con partita IVA perché il principio di saltuarietà che viene indicato dalla normativa non viene più rispettato e quindi deve essere per forza di cose adeguato noi dobbiamo essere resilienti l'altra volta vi parlavo che il requisito essenziale è la resilienza non solo per la trasformazione e la come dire la trasformazione nostra personale delle esigenze della famiglia ma deve seguire anche la trasformazione economica perché se noi siamo talmente bravi lo giustiamo bene ci troviamo in un punto strategico magari in pieno centro a Milano in una città o in una zona particolarmente rinomata della montagna ad esempio che ne so a Cortina piuttosto che altri posti e c'è sempre questo via vai io non posso diciamo fare finta di non vedere devo obbligatoriamente aprire la partita IVA insomma ecco magari tanti si chiedono ma c'è un limite di reddito ecco allora siccome queste sono cose che continuano un po' a variare è sempre bene chiedere conferma delle informazioni ai vostri commercialisti questo perché la normativa ovviamente cambia poi ci sono delle cose però diciamo che per i bed and breakfast c'è un reddito annuale cioè dai insomma ci può stare fino ai 10.000 15.000 ecco di reddito annuale se andiamo oltre a quel punto non è più saltuario ovviamente la cosa è evidente anche lì dipende appunto dal numero delle camere che abbiamo da quanto lo vendiamo quindi dal prezzo che viene applicato e dalla durata dei nostri pernottamenti ok ecco quindi questa è un po' la linea da seguire per quanto riguarda la gestione economica visto che abbiamo ancora qualche minuto interrompo la condivisione così magari mi rendo conto anch'io ok scusate ok ho cambiato l'oppostazione per quanto riguarda la gestione economica di un bed and breakfast in forma imprenditoriale ovviamente ci dovremo rivolgere per forza di cose o se siamo noi in grado di seguirlo la contabilità di una partita IVA e quindi si potrà gestire ed iniziare con un regime che adesso viene chiamato diciamo il forfettario ecco perché il vecchio regime dei minimi ormai non esiste più e dovremo aprirci la nostra posizione IMS se abbiamo dei dipendenti dovrà essere aperta la posizione INAE dovrà essere pagato il commercialista pagare i contributi per quanto riguarda la tassazione appunto se si rimane nello standard dei 60 o 65 mila euro di fatturato all'anno si potrà appunto aderire al regime dei forfettari che per i primi cinque anni quindi una nuova apertura di una nuova partita IVA viene applicato il 5% di tasse e poi si scatta con un 15% ecco queste però sono informazioni che mi raccomando verificatele sempre con i vostri commercialisti oppure altrimenti decidere di entrare nel regime contabile classico normale questo dipende un po' dall'analisi dei costi cosa conviene fare cosa non conviene fare e parlatene appunto sempre con i vostri commercialisti che sicuramente vi sapranno dare molte più informazioni e valutare di volta in volta mentre se noi gestiamo un bed and breakfast con la forma familiare quindi con il principio di saltuarietà verrà sostanzialmente gestito con il regime di cassa cosa vuol dire nel momento in cui io arrivo a un cliente vado gli faccio la mia ricevuta non fiscale ovviamente con poi la prossima volta vi faccio una slide adesso ve lo anticipo solo velocemente anche perché vedo sono già 59 comunque sostanzialmente dovrà essere fatta la differenza fra quello che io vado ad incassare quindi la somma di tutte le ricevute che io vado ad emettere ai miei clienti mi terrò tutte le fatture le ricevute della della di quelle che sono state le spese necessarie per la gestione quindi la spesa per l'acquisto dei prodotti della colazione piuttosto che degli asciugamani insomma ecco altre cose e anche le bollette di casa possono essere in una determinata percentuale scalate io poi in fase di dichiarazione dei redditi andrò a fare la differenza fra quello che io ho incassato e togliendo i costi che ho sostenuto per la gestione e la differenza andrò ad inserirla nella dichiarazione dei redditi del quadro RL mi pare redditi diversi insomma da lavoro ecco questo è un po' quanto sono le principali differenze spero di avervi dato un'idea abbastanza chiara di quello che può essere una prima immagine e i principi diciamo fondamentali differenze di gestione fra un bed and breakfast in forma imprenditoriale ed in forma invece classica normale insomma se ci sono domande io sono qui sono le 12 rubiamo un minutino solo e se no ci salutiamo sto guardando su youtube no mi pare che sia tutto chiaro allora direi che ci salutiamo alla prossima grazie alessia grazie alessia ciao grazie a voi ciao ciao